In un certo senso, laurearsi lavorando potrebbe essere più facile che studiare basta. Se sei uno studente lavoratore, università pubblica, università privata, università telematica che sia, hai gli stessi problemi che ha uno studente che fa solo quello nella vita per dieci ore al giorno. Ti siedi di fronte alla pagina, provi a leggere, sei stanco, sei svogliato, non hai voglia di leggere quelle cose che ti trovi davanti e la mente inizia a vagare. Finisci la pagina e non ti ricordi praticamente niente o non hai capito niente. Studi per mesi, magari nei ritagli di tempo o togliendo tempo alla tua vita privata, alla tua vita professionale, al lavoro, arrivi davanti all'esame, al professore, non ti ricordi alcune cose, hai dei voti di memoria improvvisi oppure hai delle incertezze che sono inconcepibili, ti viene l'ansia come ai ragazzini, ma tu ovviamente hai studiato talmente tanto che ti stupisci di queste incertezze. Non sembra neanche che hai studiato così tanto e hai sacrificato tante cose nella tua vita. Comunque tranquillo perché le ansie ce le hanno tutti, non solo i ragazzini. La vogliamo trovare una soluzione insieme? La prima cosa è scontata. Il metodo di studio che usavamo al liceo non va bene, sottolineare, riassumere e ripetere, andavano bene il giorno prima, poi te la cavavi un po' con la parlantina. Se la parlantina non ce l'avevi ti sei abituato a studiare quasi a memoria o comunque a valer riportare quasi in maniera identica a quello che c'è scritto nel libro. In ogni caso all'università questa cosa non la puoi fare perché hai poco tempo, ci sono alcuni professori che chiedono di tutto le frasi precise del libro, i libri sono giganteschi, comunque non hai voglia di farlo, perché la stanchezza, la noia di fare sempre le stesse cose o di studiare, magari anche cose che non ti piacciono, ti portano a procrastinare. In effetti questi metodi che usiamo per studiare sono un po' casuali, ce li siamo creati un po' nel tempo, niente di male in questo, il fatto che poi ci portano davanti al professore all'esame che non abbiamo i risultati, abbiamo dei voti medi, andiamo in ansia, ci diamo la colpa di non aver studiato abbastanza, diamo la colpa al lavoro, comunque ci sentiamo in colpa per aver sacrificato tantissimo del nostro tempo di vita oppure per non aver dato tempo alle cose veramente importanti, il lavoro è una di queste. Di sicuro non rispettiamo le aspettative né nostre né degli altri, alcune persone ci vogliono veramente tanto bene, ci vorrebbero aiutare e comunque hanno delle aspettative nei nostri confronti, non fosse altro perché gli togliamo del tempo alla relazione. La buona notizia è che le soluzioni sono abbastanza chiare, semplici, sono facili da trovare e sono anche chiare da mettere in pratica, l'importante è usare gli ingredienti giusti e la formula giusta. In questo video e nei successivi cercherò di essere molto veloce, semplice, tuttavia non dare per scontato le cose che ti dirò, perché ho dovuto studiarci tanto, fare tutti i corsi, soprattutto in lingua straniera, metterli in pratica con un migliaio di studenti e ho dovuto girare il mondo per la ricerca dello sviluppo delle intelligenze, perché ho voluto vedere come in alcune parti del mondo queste intelligenze, questi stili di apprendimento e stili cognitivi vengono preservate, mentre in Italia abbiamo ancora qualche difficoltà, che probabilmente è dovuto alla strutturazione anche del sistema scolastico e universitario italiano. Sono tutte cose per cui ho dovuto tenere duro, mettere in pratica, volevo che fossero i metodi, non dico perfetti, ma sicuramente i migliori, professionali, testati e che funzionassero davvero in questi casi specifici, in alcune facoltà specifiche e che dessero dei risultati concreti. Ecco quattro indicazioni di base che fungono appunto come fondamenta del nostro lavoro insieme. La prima, se lavori part-time o full-time, non hai il tempo di fare tecniche di memoria, mappe mentali, mappe concettuali, schemi e di usare i vecchi metodi. Sono tutte cose che richiedono troppo tempo, facciamo fatica a impararle, facciamo fatica a applicarle. La comunità scientifica da 40 anni dice che questi metodi non funzionano per tutto, funzionano solo per alcune cose, per ricordare elementi singoli, altrimenti richiedono troppo tempo ed energie. Proprio quello che noi studenti e studenti lavoratori in particolare non abbiamo tempo ed energie. Le tecniche di organizzazione, gestione del tempo, gestione delle emozioni, vanno bene per gli studentelli, per gli adulti non vanno bene, perché non si ha il tempo per imparare le tecniche, per esempio, di gestione del tempo. Sarà per questo che le lezioni gratuite del corso base Memovia vanno così bene, sono esplose negli ultimi anni, forse perché un po' sono gratuite e un po' ti insegnano a fare schemi, mappe, a usare eventuali tecniche se proprio non puoi farne a meno, ma almeno per risparmiare tempo ti insegnano a farlo nella maniera giusta, quindi senza perderti in procedimenti disfunzionali. Seconda indicazione, aspettative realistiche. Preparare più di un esame contemporaneamente mentre si lavora o preparare più esami in un mese può capitare, può andar bene per qualche studente che fa solo quello, ma per il resto, per uno studente, per esempio lavoratore, o che ha poco tempo a disposizione, non è fattibile. L'esame deve essere letto, capito, assimilato, ricordato, bisogna impratichirsi per parlare e non possiamo studiarlo solo sulle domandine fatte dal professore, perché il giorno che il professore varia un po' o un altro professore ti chiede qualcosa di un po' più approfondito, torni a casa senza aver passato l'esame e lo devi ripreparare da capo. Terzo, qualunque metodo ti deve far sentire intelligente e brillante, non deve essere una specie di scorciatoia o non ti deve far sentire un furbetto che ha fregato il sistema, perché quello che si chiama momentum, cioè l'emozione, l'eccitazione che si prova nel superare un esame difficile, avendolo preparato bene e avere le conoscenze da utilizzare nel lavoro, si crea solo se queste conoscenze le fai tue in maniera approfondita. E poi, se studi, diciamo, massimo risultato, minimo mezzo, come si faceva a scuola o sulle domandine del professore, ti ritrovi poi al lavoro a non poter applicare niente di quello che hai studiato, perché non te lo ricordi. Ti ritrovi a preparare l'esame successivo, in cui potresti riutilizzare quello che hai studiato nel precedente, ma non te lo ricordi, perché hai studiato due cavolate. Questo potrà andare bene, ripeto, per uno studente liceale, ma quando studiamo medicina, ingegneria, giurisprudenza... Quarto e ultima indicazione. L'apprendimento deve essere qualcosa non solo di creativo, ma deve essere qualcosa che ti ispira, perché ti fa sentire che stai cambiando, che stai migliorando, ti stai prendendo una rivincita, ti servirà per guadagnare di più. L'opposto è quell'insieme di metodi che ti danno ansia e paura, oppure che ti propongono delle tecniche per superare ansia e paura. Ti ritrovi con una serie di tecnicismi che funzionano solo nei videocorsi, oppure nei corsi in presenza, ma poi non hanno un'applicazione nella vita pratica, non funzionano nel quotidiano. Il metodo o i metodi di studio devono già toglierti l'ansia, la paura e la frustrazione, per il semplice fatto di usare quei metodi di studio. Certo, molti mi dicono, il metodo è soggettivo, è vero, ognuno di noi sviluppa i propri metodi e riesce ad adattarli alle proprie caratteristiche e trova il metodo migliore per se stesso. E molti altri mi dicono, cambiare ora è difficile, come faccio a 30, a 40 anni, a cambiare il mio metodo di studio se è sempre fatto così? È vero, però una cosa è imparare a guidare, per esempio, con un istruttore che dice, ok, tu hai sempre guidato la bicicletta, adesso impara a guidare la macchina. Tu te la cavi un po', senza indicazioni, e poi ti dice, ok, te la stai cavando, impariamo subito a guidare un articolato. Non è fattibile, hai bisogno di un istruttore che ti dia le dritte giuste e ti dica cosa è bene fare e cosa no, o meglio, che ti aiuti a scoprire sia i principi scientifici che funzionano che quelli che sono più adatti per te e adattarli alle tue caratteristiche, al tuo stile cognitivo e al tuo stile di apprendimento. E comunque, lascia che te lo dica, cambiare, sì, è faticoso, richiede un po' di tempo, ma è molto meglio che vivere nei rimpianti e nei rimorsi, perché abbiamo già tantissimi rimpianti delle cose che non riusciamo a fare, abbiamo tanti rimorsi del tempo e delle energie che non dedichiamo alle cose importanti, ai nostri hobby, alla nostra vita, alle amicizie, alle persone care, che comunque sono lì e desiderano vederci eccellere, desiderano vederci riuscire. Quindi cambiare è difficile, ma non cambiare potrebbe essere, nel medio-lungo periodo, molto, molto peggio. Se credi nei valori di cui abbiamo parlato in questo video e soprattutto nel valore della libertà, dalla paura, delle emozioni spiacevoli, la libertà anche di costruirti un lavoro utilizzando le competenze che stai acquisendo nello studio, se credi nel valore dell'unicità, il fatto che tu hai degli stili cognitivi, degli stili di apprendimento che sono i tuoi e che vanno valorizzati, allora iscriviti a questo canale, nei prossimi video ne parleremo tantissimo, anzi, mi farebbe molto piacere se tu scrivessi qui sotto nei commenti quali argomenti secondo te sono i più importanti da trattare e li tratteremo ogni settimana.